Ciao, sono Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma per le amministrative 2016. Sono stata consigliere comunale in Campidoglio per due anni e mezzo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e supportato, ma soprattutto gli attivisti, che sono al nostro fianco tutti i giorni. Mafia Capitale ci ha dimostrato che a Roma la vera politica non la fanno i partiti, ma i cittadini romani. Quelli che si svegliano alle 5 del mattino ogni giorno e attendono anche ore prima che passi l'autobus che li porti al lavoro. La politica la fanno tutte quelle mamme che si fanno in quattro per trovare un asilo pubblico decente per il proprio bambino. La fanno i commercianti, i liberi professionisti, gli artigiani che pagano le tasse più alte d'Italia ricevendo servizi scadenti. La politica a Roma la devono fare i musei, la devono fare i parchi, il centro storico e le periferie. Non siamo solo una città, noi siamo storia. E qualcuno ha provato a cancellarci, speculando sulle nostre spalle. Ma ora è il momento di prenderci la nostra rivincita. Sarà un compito difficile e ne sono pienamente consapevole, ma non mi spaventa. Chi deve essere spaventato sono coloro che vogliono che resti tutto com'è. Perché non è vero che Roma non può tornare al pari di grandi metropoli europee. Non è vero che la capitale non può rinascere. Possiamo tornare ad essere città del mondo ed è il momento di riprenderci la nostra storia. Grazie. 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 Grazie.